Il passaggio alle nuove norme europee sul salvataggio delle banche in crisi, il cosiddetto bail-in, è stato traumatico e non sono stati sufficientemente ascoltati i tecnici del Ministero dell'Economia e della Banca d'Italia. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento all'Assion Forex di Torino. Per questo Visco chiede che nei prossimi due anni venga sfruttata la possibilità di rivedere il bail-in, un insieme di regole che fa pagare ad azionisti, obbligazionisti e correntisti con oltre 100.000 euro depositati in caso di fallimento di una banca. Secondo il governatore, inoltre, le tensioni di borsa che hanno investito nelle ultime settimane i titoli azionari delle banche italiane non trovano giustificazione nelle loro condizioni di fondo. Problemi per i nostri istituti di credito vengono anche dalle cause che gli italiani stanno facendo contro di loro. Nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, infatti, si legge che c'è un boom di cause che hanno ad oggetto il tema di grande attualità della responsabilità fatta valere da singoli risparmiatori e investitori nei confronti di banche e promotori finanziari per difetto di informazione o per la rischiosità dei prodotti.